Continua la discesa dei ricoveri covid in Abruzzo che passano dai 423 di ieri ai 412 di oggi. Nel dettaglio 374 pazienti, meno 8 rispetto a ieri, sono ricoverati in area medica covid e 36, meno 3 con due nuovi ricoveri in terapia intensiva. Un numero questo più che dimezzato rispetto al picco di qualche settimana fa. Altre 7.973 persone, meno 157, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Sta scendendo anche la pressione ospedaliera, sono sempre di meno le persone ricoverate. In alcuni nosocomi si stanno tornando o almeno si comincia a programmare il ritorno alla normalità di alcuni reparti che erano stati occupati in gergo tecnico, sporcati dalle malattie infettive. E quindi se questo trend va avanti, diciamo che già dalla prossima settimana avremo alcune ulteriori riaperture di attività mediche ordinarie e un ritorno verso la normalità anche sotto il profilo sanitario. Proseguono però i decessi a causa delle infezioni di coronavirus. Nelle ultime ore le morti sono 6 ed il bilancio delle vittime da inizio emergenza sale a 2.403. Sul fronte dei nuovi positivi sono 151, emersi dalle analisi di 4.032 tamponi molecolari e risultato così positivo il 3,75% dei campioni. I nuovi positivi hanno età compresa fra i 4 mesi e i 98 anni. Gli attualmente positivi scendono a quota 8.383, meno 168 rispetto a ieri. I guariti aumentano e sono 60.432, più 313. I maggiori contagi si registrano nella provincia di Chieti, poi l'Aquila e Teramo, numeri molto più bassi nel Pescarese.